In mancanza di altri sperimentatori che controllino il fenomeno, io devo ripetere all'infinito l'esperimento e ripetendolo all'infinito vedo una variazione col campo magnetico che talvolta cessa. Qualche volta fa e qualche volta no. Perché? Perché l'interferenza. Questo interferometro è senza il campo magnetico perché vicino perché il coasiale è di ferro argentato. Questo è il coasiale. Questo interferenza. Questo interferenza. Questo interferenza. E questi sono i segnali provenienti contemporaneamente dal discriminatore. e dall'antenna a onde lunghe come si vede sono quasi sincroni. Cosa? Sperimenti ancora inizia! Cosa? Banda Ciao! Cosa? 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 Grazie a tutti